Presidente Marsilio, lavoro, qualità del lavoro, sicurezza sul lavoro. Domani è il primo maggio, a che punto siamo in Abruzzo e cosa ancora c'è da fare? Siamo sulla buona strada, i dati certificati da Istat e Ampalla dimostrano che l'Abruzzo ha fatto molto in questi anni per la crescita dell'occupazione e per migliorare i dati, soprattutto sulle categorie più deboli come le donne e i giovani. Possiamo presentare oggi un risultato che due anni fa vedeva la differenza tra uomini e donne come percentuale di occupazione di oltre il 22% a favore degli uomini, questa differenza si è ridotta al 18%, sono quattro punti recuperati nel divario di genere ed è molto importante, si segna quasi il 5,5% di donne occupate in più, occupazione in crescita per tutto l'Abruzzo che significa portare l'Abruzzo di fatto ad allinearsi alla media nazionale, ci separa soltanto mezzo punto oggi dalla media nazionale dell'occupazione, una media che peraltro in questi anni sta crescendo molto e quindi non era facile tenere il treno, raggiungere un treno che va veloce grazie anche alle politiche che il governo Meloni sta portando avanti e che proprio oggi rafforzerà con un decreto che tutti attendiamo e che siamo pronti a mettere in pratica nella nostra regione. Poi certo c'è ancora molto lavoro da fare soprattutto sul tema della sicurezza perché i dati invece sulla sicurezza sono negativi, l'ultimo anno è stato un brutto anno da questo punto di vista, dobbiamo capire se si tratta di sfortunati episodi o se c'è un problema strutturale nel controllo, nella modalità con cui si esercitano non soltanto dalla regione, anzi la regione da questo punto di vista non ha strumenti diretti perché non governiamo noi gli ispettorati sul lavoro e determinate altre dinamiche, facciamo però un grande sforzo compreso il protocollo con INAIL e con tutte le associazioni di categoria contro il lavoro nero, contro il caporalato per migliorare le condizioni di lavoro, siamo parte attiva di questo processo e continueremo a farlo con ancora maggiore attenzione e determinazione.